Dopo le mie esperienze all'estero sono tornato a Savona con il desiderio di creare una cucina capace di far risaltare l'eccellenza del territorio. Volevo riportare le mie esperienze e le mie conoscenze qui a casa, unendo l'innovazione e la creatività con le mie tradizioni, le mie sono parte della mia storia e dei miei ricordi. Un po' di acqua e farina bastano per riportarmi con la memoria alla mia infanzia. È proprio dal ricordo della pasta fatta in casa di mia nonna che nascono gli gnocchi di patata ripieni di cioppine, una zuppa tipica a base di pesce ligure. Un piatto che racchiude la mia passione per la cucina, la mia volontà di raccontare e reinterpretare la tradizione. Questa è la mia filosofia di cucina, mi lascio guidare dalla stagionalità degli ingredienti nel rispetto di quello che il territorio ci offre. La mia cucina è una cucina fatta di contrasti, di personalità e di carattere. Ogni piatto ha sfaccettature e colori che creano un connubio perfetto.